Salve a tutti, come state? Spero tutto, tutto bene Oggi è venerdì e sono le 11.20 Se vi state chiedendo perché ho la stessa maglia dello scorso video è perché mi sto anticipando anche questo Comunque, sapendo che a voi questo video vi sarebbe piaciuto E leggendo un po' i commenti ho deciso di fare un video inerente alla lettura delle carte Nello scorso video, o due video fa, vi ho spiegato un po' come mi sono approcciato le tipologie di modi di lettura che io conosco, eccetera, eccetera Quindi se volete andarvelo a vedere, andate Io utilizzo le carte napoletane Un semplicissimo mazzo, composto da 40 carte Ognuna ha un significato specifico, che ovviamente varia E ovviamente io magari chiedo un significato Un'altra persona potrebbe dare un altro significato ancora E diciamo che la cosa varia anche dalle tipologie di carte che escono vicino Ci sono vari significati per quanto riguarda il lavoro, l'amore, la vita, eccetera, eccetera E la cosa che mi piace fare di più a me sono letture generali composte da tre carte Cioè non mi piace tanto fare le letture sull'amore Mi preferisco un po' più sulla vita, sul lavoro, su altre cose Allora Ovviamente Prima di una lettura le carte si mescolano sempre Anche se, come vi ho detto negli altri video, sto valutando di comprare delle carte Più Tipo le Sibille o i tarocchi Anche se, anche con questi si leggono, molti lo fanno Ora, non so bene, non vorrei dire una scemenza Però, tipo, sono delle carte minori rispetto ai tarocchi queste Ora, correggetemi se sbaglio, eh Molto probabilmente ho sbagliato, però Faremo una lettura un po' al nulla cosmico, quindi Non direttamente a me, non direttamente a qualcuno Così E vi spiego un po' le carte, che stra Però prima un po' di sound Delle carte Perché secondo me è stravalido Io in genere quando mescolo Vado un po' a sensazione Nel senso Sì, mi sento di continuare a mescolarle Continuo Fino a quando mi sento che mi posso fermare Che è il momento giusto Mi fermo Io la penso un po' così Ovviamente ora Non è che mi sto basando sul sentire Però In generale Mi sento di Sì, mi sento che mi sento che mi sento alo Poi il significato di ogni carta cambia, cioè ad esempio alla diritta ha un significato questa carta e alla rovescia così ne ha un altro. In genere alla rovescia è un significato negativo, anche se ad esempio le spade, tipo questo, alla diritta è negativo, ad esempio questo potrebbe indicare un problema, un ostacolo delle situazioni che non vanno, ovviamente poi cambia. Allora, diciamo che ora i significati di ogni sicura carta li sto imparando, ci sono delle carte che sono meglio rispetto ad altre, altre peggio, però in genere quando faccio la lettura specialmente ad altre, perché la faccio a me e sbaglio, non fa niente. Intento ad utilizzare la guida che mi sono creato, ne ho due, una che è tipo più sintetica, con le parole chiavi, e un'altra che è totalmente un caos. Ci sono scritte cose davvero brutte da vedere. Allora, diciamo, diciamo, diciamo. Allora, diciamo. Allora, adesso facciamo un'ultima mescolata e poi facciamo una mini lettura così a caso. Siamo pronti. Faccio la lettura a tre carte, cioè tipo presente, passato e futuro. Queste le mettiamo da parte perché in realtà non mi servono, poi ovviamente se tipo voglio un chiarimento, un ampliamento della situazione. Pesco, allora, come passato, come presente, un asso di denari, come presente, un tre di spade e come futuro, un asso di denari. Allora, ma non voglio imbraviarmi, le rimetto sul comodino. Allora, diciamo che il sette indica comunque fortuna. Fortuna è proprio la carta della fortuna. Quindi, ad esempio, potrebbe essere anche una riuscita, non lo so, una rivalutazione di un qualcosa. Ovviamente il significato, ripeto, cambia da domanda a domanda, da situazione a situazione, eccetera, eccetera. Quindi, il tre di spade potrebbe indicare, ad esempio, in una relazione, che c'è una terza persona, c'è un qualcosa, un terzo elemento, c'è un qualcosa che vi ostacola. Cioè, così possiamo dire, potrebbe esserci proprio un tradimento, malignità, quindi c'è un qualcosa. Invece questa, secondo me, è la carta più positiva, cioè la sua denari indica comunque una riuscita, potrebbe simbolizzare anche una riuscita sul piano del matrimonio, in una relazione, una vittoria, qualcosa. E adesso, diciamo, ad interpretare più o meno la situazione, quindi adesso, diciamo, facendo una lettura insieme, potrebbe essere così. Nel passato, diciamo che hai avuto fortuna, però è una fortuna che comunque tu hai faticato per ottenerla, quindi non è stata, diciamo, tritta all'italiano, una botta di lato B, per essere meno inopportuni. In questo momento della tua vita c'è un qualcosa che non va. Adesso, non so, potrebbe essere sull'ambito della relazione un tradimento, qualcosa che comunque crea scompiglio nella coppia. E un terzo elemento, potrebbe essere anche proprio una terza persona. Però nel futuro vedo comunque, guardandolo un po' più sull'ambito relazionale, vedo comunque una riuscita nella coppia. Vedo una realizzarsi. In realtà, le letture che faccio io sono molto sintetiche, ma coincise, nel senso, ad esempio io su TikTok, vedo cartomanti. Ora li definisco così, io non mi definisco cartomante, mi definisco una persona normale che sta imparando. Cioè, in realtà, io, stando a casa, imparò a fare tante cose. Ad esempio, ultimamente, ma non neanche imparare, più o meno a fare, mi butto. Ad esempio, taglio dei capelli, sto imparando a leggere le carte, metto a fatti tutto. Allora, ad esempio su TikTok dicevo, ho visto persone che letteralmente tirano fuori tutto il mazzo per fare una lettura. Ma, secondo me, là è un po' più una presa per i fondelli. Cioè, secondo me stanno più inventando. È letteralmente così, come fanno loro. Ovviamente, mescolano sempre il loro mazzo, eh. Perché poi, intanto guardo le live, casualmente tutto il mazzo. E fanno così. E poi le girano. Ora, non so, ditemi anche voi. Se esiste questa cosa, o sono io che credo sia un po' più così. Perché, ovviamente, tirando la maggior parte del mazzo, cosa capisci? Non lo so. Io, sì, ho imparato. Cioè, so fare una lettura a 15 carte, ma non l'ho mai fatta a nessuno. Ma sono 15 carte su 40. Non tutto il mazzo. Ripeto, le letture che ho fatto agli altri. Prima, ovviamente, io l'ho fatto gratis ad amici, parenti, eccetera, eccetera. Amici degli amici, madre, gli amici, vabbè. E l'ho fatto gratis perché non è un lavoro per me. Lo faccio così. E perché mi piace. Perché mi sto comunque appassionando questo mondo. E ho fatto la lettura a tre carte. Poi so fare una lettura, sempre a 15 carte, relativa più alle coppie. A tre colonne. Però, ripeto, a me sono le letture di coppie. Non mi piacciono. Poi c'è a piramide. La so fare anche a... A croce. E... Credo siano solo queste. Quelle che so fare io, poi dovrebbero esisterne parecchie. Però, testate, sulle persone, sono queste altre carte. Quella della relazione. C'è le altre colonne. Poi... Vabbè, risposta rapida. Cioè, prendi una carta e leggi. Anche se è difficile. Infatti, tante delle volte mi tocca ripescare altre carte. Perché da una carta capisci tutto e niente. Dette in poche parole. Niente. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, eccetera, eccetera. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che ogni mio video esce il lunedì. Il sabato. Per questo periodo estivo usciranno due video smr. Poi su qualcosa da farvi vedere e raccontare. Potrebbe uscire un video vlog. Quando riprenderà la scuola, cioè il periodo scolastico. A partire da settembre. Ritornerà tutto alla normalità. Cioè, lunedì video vlog e il sabato video smr. In tutto ciò, spero che questa lettura vi abbia rilassato e vi sia piaciuta. Come sempre lasciate un commento che possa essere un consiglio, un'opinione. Quello che vi pare. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao.